di settimana, diciamo del quale abbiamo assai parlato e che credo continuerà ad essere al centro della nostra attenzione, è la vicenda delle sardine. Tutta questa massa umana che arriva nelle piazze e porta con sé appunto il simbolo delle sardine. Di Maio oggi dice guardo con grande attenzione al fenomeno, qualcuno ha detto in qualche modo sono imparentati. L'espressione di Maio sembra quella della democrazia cristiana, un vecchio democratico cristiano, guardo con interesse al fenomeno, però diciamo qualcuno ha notato come il Movimento 5 Stelle, peraltro proprio a Bologna, fosse nato e fosse una cosa di piazza, di popolo, di grande partecipazione. Ci sono link in qualche modo? Ognuno ci ha visto un possibile bacino elettorale, peraltro ieri sera ho visto da Foris il leader delle sardine, e mi sembra che sia un leader molto autonomo, molto poco deciso a fare il portatore d'acqua per i 5 Stelle o per il PD. Però insomma ognuno ci ha visto la possibilità come se la nascita del Movimento delle Sardine potesse essere una grande speranza di sconfiggere, una speranza in più di sconfiggere Salvini in Emilia, perché sappiamo che se Salvini vince... Grazie a tutti!